Tra i medici abilitati a fare le vaccinazioni anti-covid c'è il dottor Pierluigi Struzzo, un medico udinese che in Gran Bretagna ha conseguito un particolare attestato. Rita Micoli. Tra Brexit e variante inglese, oltre manica, prosegue la campagna vaccinale anti-covid. Pierluigi Struzzo, medico udinese, è appena rientrato da Londra, dove lavora. Proprio con l'ultimo volo, atterrato a Trieste prima del blocco dei collegamenti, ha fatto un corso ed è pronto a vaccinare. Alla fine viene dato un certificato di vaccinatore che deve essere controfirmata anche dal responsabile della practice. Quindi ho fatto questo e adesso sono in stand-by, che sono pronto a sostituire o comunque aiutare il team. Ma la somministrazione non è una passeggiata, almeno per questo primo tipo di vaccino. Il rischio ingorgo è dietro l'angolo, dice, dappertutto. Il problema è l'andare a prenderle, le fiale e organizzare in tre giorni e mezzo, faccia conto che una scatola contiene 975 vaccini. In Inghilterra hanno chiamato già da settimane le persone che dovranno venire lunedì. Se queste persone non vengono e non si sostituiscono, i vaccini scadono. Il punto è che anche lì hanno avuto problemi, nel senso che ci sono stati medici che ad esempio avevano 500 posti liberi e dovevano riempirli in due giorni. Lei sa come si fanno questi vaccini? Non li farebbe anche qui in regione, nella sua città? Ma il problema non è fare il vaccino, ben volentieri lo farei sicuramente. Il problema è organizzativo, il punto è quello di arrivare al 70% della popolazione. Quindi non è tanto l'inizio e fra quanti mesi riusciremo ad arrivare a coprire, quanto ci vorrà. L'adesione tra i medici, anche in regione, sembra alta. Dottor Struzzo, lei si vaccinerà? Sicuramente sì, però secondo i vari criteri di età. Io ho la fortuna di essere sano, sono vecchietto, però insomma ce ne sono altri che hanno più bisogno di me.